Sono molto contento di essere arrivato qui, è il sogno venire in questa categoria e cercare di fare bene. Spero di integrarmi al più presto in questo gruppo e alla fine di fare bene e di aiutare al meglio la squadra. C'è una squadra che cerca sempre di guardare in avanti. Sicuramente è un modulo molto offensivo, quindi non fa altro che agevolare le mie qualità. Sicuramente dovrò integrarmi con gli schemi che il mister vuole e quindi cercherò di farlo al più presto. Ma sicuramente c'è tanta voglia di imparare, questo è sicuro, quindi dovrò stare calmo e aspettare la mia opportunità. Sì, c'erano altre squadre, ma credo che quando è arrivato la chiamata del Sassuolo non c'erano dubbi sulla mia scelta. Fa parte un po' della nostra filosofia di continuare sempre con ragazzi giovani, possibilmente italiani, e credo proprio che lo stiamo dimostrando con l'acquisto sia del ragazzo del Cesena, che era dando la prossima stagione, Sensi, e anche per quanto riguarda Trotta, che invece inizia già da adesso. Per cui due profili che continuano un po' quello che è il nostro progetto. Tutte le due gli acquisti in un centro alla Juventus, perché Sensi è un ragazzo che è stato acquistato a titolo definitivo da parte del Sassuolo, rimane in prestito al Cesena e ritornerà dando per la prossima stagione. Poi con la Juventus abbiamo un rapporto particolare, che è quello che succederà nel tempo, lo valuteremo. Per quanto riguarda lo stesso discorso vale per Trotta, Trotta è un giocatore che ha acquistato totalmente a titolo definitivo da noi, ha una durata di contratto di 4 anni e mezzo, per cui è un ragazzo che riteniamo che possa essere veramente utile alla causa Sassuolo. Diciamo che adesso ci godiamo questo nuovo acquisto, perché è un ragazzo giovane, un ragazzo interessante, di grandi prospettive. Credo comunque che come campagna acquisti sia in entrata e che in uscita non dovrebbero esserci grandi sorprese, per cui mi sento di dire che è abbastanza completata. Ma la volontà sicuramente quest'anno è di mantenere la rosa, quella che abbiamo, per cui di non cedere ai ragazzi che crediamo che possano garantirci una classifica come quello che stiamo portando avanti fino adesso. Ma non è faticoso, è piacevole, perché finché ci sono grandi club che richiedono i nostri ragazzi, vuol dire che abbiamo dei ragazzi interessanti e che il lavoro che è stato fatto sia da parte del mister che dalla parte della società è un lavoro che ci può portare dei risultati sicuramente in un futuro, anche sotto l'aspetto economico, per cui siamo contenti di questo.